Buongiorno a tutti cari amici elettronauti, oggi voglio sottolineare un evento spiacevole che ha urtato pesantemente tutta la comunità elettrica facendo piazza pulita di tutti gli sforzi fatti fino ad ora per informare alla maniera corretta i cittadini italiani sul mondo della mobilità elettrica. Poi parleremo di Xpeng, di camper elettrici, di Polestar, di batterie, di Renault, ma cominciamo subito perché il video di oggi sarà un po' lungo, quindi mettetevi comodi, io sono Matteo Valenza e benvenuti in questo nuovo video. Tantissimi di voi mi hanno scritto in privato segnalandomi la puntata del 23 settembre nel programma televisivo Piazza Pulita. Allora, se questo servizio è stato scritto a tavolino portando ed esaltando i problemi della infrastruttura italiana e delle auto elettriche, ok, io non lo posso sapere, ma mettiamo che siano stati semplicemente in buona fede e sfortunati. La mia conclusione non è come quella di tanti miei colleghi che hanno risposto a questo video oltraggioso, ma secondo me non è da crocifiggere la trasmissione, non è da crocifiggere la giornalista, ma chi semplicemente le ha dato l'auto. L'auto infatti, a detta proprio loro, gli è stata data a noleggio e forse i noleggiatori stessi avrebbero dovuto darle un'infarinatura di base, consigliandole come ricaricare e come trovare le colonnine più veloci e gli hotel magari dotati di ricarica elettrica. È vero, chiaramente l'auto elettrica, come ho già detto più volte, non è proprio per tutti, ma lo può diventare. Basta spiegare le due nozioni di base e ci vogliono circa 10 minuti per farlo. Quasi il tempo di un rifornimento di carburante. E altra cosa importante, è vero che scendendo verso sud l'infrastruttura per la ricarica comincia a scarseggiare, ma anche le auto elettriche scarseggiano, quindi è normale, diciamo che ci vuole ancora un po' di lavoro per ampliarla, ma viaggiare elettrico è possibile. Youtuber e giornalisti di tutta Italia hanno risposto a questo, chiamiamolo affronto, come dicevo prima, alla mobilità elettrica con un video di indignazione. Quello che preferisco però è che mi sento di segnalarvi che non è un video di indignazione, quello di Vai Elettrico, che ha dimostrato che con appunto qualche nozione in più è possibile fare lo stesso identico viaggio nelle stesse identiche condizioni, anche sfavorevoli, quindi partendo con il 63% di batteria, in 10 ore, non 52. La cosa che non mi è piaciuta particolarmente di tutta questa storia è la disinformazione che ha creato e che purtroppo, pur avendo fatto tanti articoli e tanti video contro, non avranno mai un impatto mediatico importante come l'ho avuto la trasmissione di Piazza Pulita. Ecco, dovrebbero fare una rettifica forse, ma credo che anche se la facessero, non riuscirebbero comunque a risolvere il danno che hanno fatto. Detto questo, è importante continuare a pensare con la propria testa, come vi ho già detto, e selezionare accuratamente le fonti da cui recuperare le informazioni. Non fermatevi a quello che vi dicono, ma fate sempre una buona ricerca. Oggi a tal proposito, come seconda news della settimana, vi segnalo un'ottima piattaforma dove potete farlo. Sì, potete informarvi senza paura di trovare una bufala sulla mobilità elettrica. Si chiama Supervisor. Ha un logo molto carino e un piccolo Zeus che notoriamente ha uno sguardo fermo e ti spara un fulmine se non fai il bravo. Il nome poi fa un po' un giochino con la parola EV, che è Electric Vehicle, ma si pronuncia Supervisor e non Super-Evisor. Va bene. Ma cosa fa? Allora, questo team di imprenditori italiani è partito da una necessità e dalla consapevolezza che un sistema di questo tipo, anche a livello internazionale, sarebbe stato decisamente utile. E anche Elon Musk, qualche settimana dopo, durante un'intervista, disse che sarebbe stato utile avere un TripAdvisor dei giornalisti. Ne è uscito infatti un portale completo, primo e unico nel suo genere, interamente dedicato alla mobilità elettrica. Qui qualsiasi utente può aggiungere un prodotto o una recensione di qualsiasi cosa, un personaggio famoso, un canale YouTube, una rivista, un articolo in particolare, un'auto, un marchio e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente sempre legato alla mobilità elettrica. E la sua finalità è chiaramente quella di portare le persone a condividere esperienze reali. Non ci sono lobby che la comandano, non è possibile eliminare le recensioni, anche se sgradite, che è una cosa molto importante, chiaramente. E poi ovviamente tutto è monitorato e moderato da un team interno che magari lima un po' e perviene gli atteggiamenti off-topic per mantenere alto il livello di informazioni. Ovviamente è tutto gratuito, fruibile, sia da computer che da smartphone e da app dedicata. E questa piattaforma poi è comoda per i professionisti della mobilità elettrica, magari come me, perché con le recensioni possono farsi conoscere e magari portare visibilità alla loro attività. E invece credo che sia indispensabile per le aziende, perché possono anche crearsi pagine premium e possono anche rispondere a domande e recensioni degli utenti. Io la mia pagina l'ho già creata, se vi va di dare un'occhiata e andare a farmi una recensione, mi farebbe veramente molto piacere. Trovate il link in descrizione. E continuiamo velocemente con le altre news elettriche che in questa settimana sono un po' piatte, come se avessero fatto le vacanze di agosto a settembre. La tanto parlata Xpeng sembra stia lavorando ad un nuovo modello di nome P5. Sarà disponibile in varie versioni, costerà da 22 a 30 mila euro. La entry level avrà una batteria da 56 kilowattora con 450 chilometri di autonomia. La più costosa invece avrà una batteria da 72. Lo 0-100 sarà raggiunto in 7,5 o 10 secondi. Ok, non sarà molto veloce, però è molto molto interessante. Tutti la stiamo aspettando. Una macchina elettrica che costa poco, ma che però fa tanti chilometri. E un'altra cosa che stiamo aspettando da tanto è un camper elettrico con tanta autonomia. L'azienda Solar Team infatti sta sviluppando un camper aerodinamico elettrico con 700 chilometri di autonomia, con la possibilità di aprirsi sul paesaggio, e con 17,5 metri quadrati di pannelli solari elettroattuati sul tetto. Wow, che ne dite? Io non vedo veramente l'ora, ragazzi. Mi divertirei un casino. E adoro anche l'aspetto green e di salvaguardia del nostro pianeta, che tanto in questo periodo è chiacchierato. Motive è lungo 2,53 metri, pesa 376 chilogrammi, con una batteria da 17,3 kilowattora. E udite udite, 200 chilometri di autonomia. E un'altra cosa che non vedo l'ora di provare è la Polestar, che ancora però tarda ad arrivare in Italia. Eppur non sapendo quando arriverà, sta continuando a creare nuove auto ed è la volta oggi di un SUV elettrico, la Polestar 3, che poi toccherà a Polestar 4, che sarà a sua volta un SUV, ma coupé, un pochino più piccolo. E chiudo le news di oggi con una notizia molto importante, un passo veramente fondamentale per tutto il mercato delle auto elettriche, soprattutto per l'usato. Sapete che il problema principale oggi delle batterie al litio è il loro degrado, giusto? Che nel tempo, utilizzando l'auto elettrica, porta ad una diminuzione inevitabile della sua autonomia. Renault ha presentato un servizio capace di analizzare le batterie di un'auto elettrica ed emette un certificato che ne garantisce appunto la sua salute. Questo certificato sarà unito all'auto, così che il proprietario potrà, tramite l'app MyRenault e MyDacia, accederci e verificare appunto il suo stato di salute. Elettronauti, questo video è stato lunghissimo, ma spero di avervi dato delle informazioni puntuali come sempre. Noi ci rivediamo ogni martedì e venerdì alle 12 con un video sulla mobilità elettrica e domenica alle 10 per il consueto video delle news della settimana. Ciao ragazzi, a presto! Ah ragazzi, oggi è il mio compleanno, ci vediamo in live alle 21. Ciao!